e siamo pronti per fare il primo circolo a Adria e sappiamo che saranno i primi punti di partenza da cui radicheremo sinistra, ecologia e libertà nel Polesimo. Non sarà, cari compagni e cari compagni e caro Nitti, questa è l'unica vittoria. Vedi, tu parli di un'Italia migliore, ma anche a Rovigo esiste un'Italia migliore. Esiste una Rovigo migliore che pensa a curare il territorio e che pensa che per curare questo territorio significa preservarlo dalla speculazione edilizia e dagli insediamenti produttivi inquinanti. Esiste una Rovigo migliore che vuole il corso di uso al traffico perché pensa che la città appartenga prima ai suoi cittadini e poi agli automobilisti. Esiste una Rovigo migliore perché ama il migrante, non lo odia, non lo consente, e la Rovigo migliore che consiglia alla migrazione un'opportunità per tutti noi.